Una cosa che ho dimenticato di dire, vi ricordate quando vi ho detto la sirena che era raffigurata nell'atto di suonare la tromba? In realtà, anticamente non era la tromba, la tromba è un simbolo più moderno, la sirena suonava la brogna e la brogna è uno strumento mondiale perché un film degli anni 60, gli ammutinauti del Boundy, che probabilmente l'avrete visto nella scena iniziale c'è un indigeno che alla Hawaii suona proprio la brogna a questo tipo di conchiglia per segnalare l'arrivo del Boundy, di un evento eccezionale. Signori, grazie a tutti.